E siamo al nostro quattordicesimo allenamento insieme. Ci cureremo della parte alta del nostro corpo. Per il primo esercizio appoggiamo le mani a terra davanti a noi, poco più larghe delle nostre spalle. Il corpo è teso, siamo in appoggio sulle mani e sulle ginocchia. Scendiamo verso terra, spingiamo e ritorniamo in posizione. Mi raccomando la schiena tesa con gli addominali contratti. Discesa e ritorno. Il tutto per dieci volte. Per il secondo esercizio ritorniamo in posizione. Appoggiamo le ginocchia, le mani, manteniamo il corpo teso, stacchiamo un braccio e lo portiamo verso il soffitto per poi ritornare in appoggio a terra e alterniamo le braccia verso il soffitto. Il tutto ripetuto per dieci volte, con le braccia alternate. Per il terzo esercizio porteremo le mani a terra e le uniremo. Le ginocchia in appoggio. Il corpo è teso, gli addominali contratti. Appoggiamo anche le punte dei piedi a terra e portiamo le gambe tese. Ritorniamo con le ginocchia in appoggio a terra. E ripetiamo il tutto dieci volte. Abbiamo terminato il nostro quattordicesimo incontro insieme. Buon allenamento! Grazie. 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 Grazie.